Ci siamo ragazzuoli, è il grande giorno e io sono in una situazione abbastanza importante, se mi posso permettere, sto già iniziando ad accusare una certa tensione ed è giusto anche che voi sappiate una cosa, magari molti potrebbero dire vabbè dai ci sta comunque la partita è questa sera, manca relativamente poco tempo quindi dai magari è normale, non è il 23 per me in questo momento, è il 22, per la precisione sono le 3 del 22 ma già mi sento nella condizione ideale per fare questo video perché se già la situazione è questa adesso non osi immaginare che cosa sarà domani e questo da un certo punto di vista è un problema tra i tanti che obiettivamente mi affliggono innanzitutto perché si parla pur sempre di uno spareggio per entrare di fatto nella fase di eliminazione diretta dell'Europa League, nel senso penso che già questo sia più che sufficiente, non si parla neanche magari di un ottavo di finale di Champions quando le cose piano piano iniziano in un qualche modo da farsi sul serio, no, si sta parlando di uno spareggio per entrare nella fase di eliminazione diretta dell'Europa League contro il Nantes, fosse no il Manchester United, il Barcellona, l'Arsenal, tre squadre che partecipano a questa competizione, no il Nantes, squadra che è tredicesima nel campionato francese, ha 9 punti dalla zona retrocessione, c'è una possibilità che quelli che ci potrebbero sbattere fuori questa sera l'anno prossimo saranno nella serie B francese, come noi, quindi da un certo punto di vista c'è anche una certa coerenza in più, in tutto questo ci possiamo anche aggiungere una cosa, a me non mi capita mai di sognare le partite, gli esiti delle partite, i risultati, cazzo questo giro sì, perché ieri ho sognato che uscivamo contro il Nantes, pareggiando 1 a 1, come sia possibile questa cosa è pressoché impossibile, però di fatto il sogno questo era, uscivi, uscivi pareggiando tra le altre cose, con lo stesso risultato della partita d'andata e questo non può far altro che andarmi a sconvolgere in un qualche modo la psiche, andiavoci a questo punto anche a sommare il fatto che notizia di ieri ne Pogba, che vabbè questo effettivamente si sapeva anche e soprattutto Chiesa non prenderanno parte alla partita di questa sera, non sono proprio partiti, Chiesa ieri si è allenato solo ed esclusivamente in palestra, fortuna no, che dicevano no tranquilli tanto Chiesa ha completamente recuperato, ha saltato la partita contro lo Spezia giusto per un affaticamento, ma non c'è nessun problema per la partita di giovedì contro il Nantes, infatti e di fatto la mia condizione è questa qui, per uno spareggio di Europa League contro il Nantes, se non è banterera questa onestamente io non saprei definire in un altro modo la banterera di una squadra che solamente fino a 5-6 anni fa o era tra le candidate a vincere addirittura la Champions League o magari arrivava in finale, questo purtroppo è, questo purtroppo passa in convento e mi auguro onestamente che i giocatori non abbiano la scaga che ho io in questo momento perché altrimenti potrebbe essere dannatamente preoccupante, ma parlando un attimino di più nel concreto, un pochino più seriamente e non che la mia psiche non sia seria anzi, zero scherzi ragazzi, perché adesso va bene tutto quanto, probabilmente non arriviamo nella condizione migliore, ma quando mai la Juventus firmata Allegri 2.0 arriva ad un match importante nella massima condizione possibile con tutti a disposizione? Mai! Quindi di fatto è a grandi linee una situazione che siamo già abbastanza soliti a vivere e non facciamo scherzi, sia mai, lo dico proprio preventivamente, dire vabbè non c'era chiesa, tutto sommato se loro sono in Europa League è perché l'anno scorso hanno vinto la Coppa di Francia o sono arrivati in finale lì in Coppa di Francia e questo gli ha dato la possibilità di giocare l'Europa League? Ragazzi no, adesso con tutto il bene del mondo e con tutto il bene possibile no, questi fanno ridere, il problema è che effettivamente nel momento in cui si gioca la partita di ritorno e si parte dal risultato di 1 a 1 e la gioca in trasferta significa che appunto di fatto l'1 a 1 loro l'hanno acquisito in casa tua, quindi da un certo punto di vista anche tu potresti fare in un qualche modo ridere e infatti è quello, è esattamente quello che mi preoccupa, mi preoccupa e neanche poco, anche perché l'abbiamo già visto in questa stagione in Europa che si possono ottenere risultati in negativo impensabili da ottenere, uno su tutti ovviamente è la sconfitta di Haifa che io onestamente il Maccabi faccio fatica a metterlo su un livello così tanto superiore rispetto a quello del Nant, perché il Nant è così forte? No, perché facevano ridere anche loro, eppure, eppure in un quarto d'ora ti hanno fatto 2 a 0 tutti quanti zitti, tutti quanti a casa e via spediti in Europa League e non è concepibile ovviamente la stessa identica cosa questa sera, metto già proprio le mani avanti, io mi sto cagando addosso l'avete capito? Presumibilmente sì, significa che la situazione è problematica? Assolutamente sì, però di fatto questo è, però bisogna avere anche un pochino di consapevolezza, tu in un qualche modo sei comunque pur sempre la Juventus, è vero che purtroppo stiamo vivendo una Juventus che è la brutta copia della vera Juventus, però sei comunque la Juventus che avrà la possibilità di schierare questa sera giocatori come Di Maria, giocatori come Vlaovic, giocatori comunque in grado di battere la tredicesima del campionato francese a 9 punti dalla zona retrocessione senza star qui a fare l'elenco di chi scendere in campo questa sera, sarebbe anche superfluo nel momento in cui non abbiamo le formazioni non ufficiali, tra le altre cose e soprattutto qui bisogna cercare in un qualche modo di dare un senso alla stagione. Anche solamente pensare che a partire da domani non si potrà nemmeno parlare di una Juventus con un cammino europeo da fare sarebbe veramente distruggere completamente la stagione. Ok, ci possiamo togliere le due partite contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia e una possibile, fino a prova contraria, finale di Coppa Italia. D'accordo, però così non passerà più. Almeno la possibilità di avere, dai, altri impegni per avere un obiettivo che a modo suo, vedendo quella che la situazione di questa Juventus può essere anche un obiettivo definibile e importante, è il minimo che non sta a significare ovviamente poi andare a vincere l'Europa League perché dopo lì avrai gli ottavi, i quarti, le semifinali, le finali. È lunga, è lunga e ci sono delle squadre insidiose che sono tranquillissimamente in grado di metterti in difficoltà nel momento in cui fino a prova contraria tu in Europa quest'anno hai vinto solamente una partita contro il Maccabi in casa, tutte le altre le hai perse in Champions League e contro il Nantes una settimana fa hai pareggiato. Però devi, hai l'obbligo, cioè non ci sono altri termini onestamente, hai l'obbligo, hai l'obbligo. E non parlo neanche del discorso legato al fatto che con l'Europa League potresti andare in Champions, che fino a prova contraria è verissimo, potresti andare in Champions da testa di serie. Avresti la possibilità di giocarti un altro titolo europeo che è la Supercoppa al momento, quantomeno fino a prova contraria, dato che non ci sono state delle ufficialità a riguardo esclusioni o quant'altro. Quelle le sta dicendo Zigliani e ad oggi non sono ufficiali e quindi nel senso fino a prova contraria è così. Ma a prescindere da tutto questo, l'idea di uscire contro una squadra come il Nant non è accettabile. Metto già le mani avanti ed eventualmente, ovvio, vedendo la tensione che sto provando in questo momento, sarò il primo a fare quasi salti fino al soffitto in caso di vittoria. Più che altro semplicemente perché l'Europa League in questo momento storico, preciso, è troppo importante. E in un qualche modo dobbiamo cercare di mandare avanti questo obiettivo ed è anche impensabile che delle partite che sulla carta dovrebbero essere, per carità, perché poi la palla rotonda, devi scendere in campo e tutto quanto, ma comunque dovrebbero essere delle passeggiate di salute, diventino un patema, un patema continuo che non provavo neanche a ridosso della semifinale di ritorno del 2015 quando saresti dovuto andare affrontare il Real Madrid al Bernabeu con il gol del Canterano, tra le altre cose. Però di fatto questo è e purtroppo è come la sto vivendo. Voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento dicendomi come state vivendo queste ore che ci separano dal match di stasera. Io vi mando un grosso abbraccio, ne ho davvero un dannato bisogno e tanto per cambiare fino alla fine. Forza Juve!